Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui con Andreflex06 Bello Siamo qui ovviamente su Code the Warzone dopo circa due mesi Da quell'ultimo video sulla modalità del match a squadre Ora faremo invece zuffa squadre che è una stessa cosa scopiazzata per quelli che non hanno VV2 E allora l'hanno messa con le mappe giganti esatto Semplicemente che di mezzo dall'ultimo video c'è stata anche la live che abbiamo fatto con Dragonfire Che io ho cancellato per vergogna Allora ragazzi questa modalità non ho già mai giocato Surprise motherfucker Ragazzi ne approfitto di questo momento di tempo morto per informarvi Anzi per costringervi a iscrivervi al canale di Andreflex06 E unzip trattino basso 12 camadina Puttana la nonna Io l'ho già visto nei tre Madonna mia Eh che cosa è Battlefield Eh non muore guarda Beh diciamo che siamo là Ma chi sono? Un gesù bambino Eccolo Mamma mia Sei nabbo Sei scarso Madonna mia dove ti ho visto birichino mio Ma te mi illumini la mia Hai già in alto la mano Sono il tuo capitano Uuuuh Ah Michè No io c'è O il corpo mi ha rimbalzato indietro O questo E' una macchina da guerra E' una macchina da guerra questo coccodrillo Abbiamo perso Sì Mario Mi sono venite una fama quei video Madora ragazzi Buono buono E' questa è con Robbery Infatti lui si è fidanzato appena mi è assoluto del lanciolazzi Uuuuuh America Sniper NANI OMAE WA MOO SINDE IRU Ehi Questa è un po' che vengo picchio Ah ah Non vedo nei tuoi video con la facecam Madonna mia Vabbè io Wait a minute Bello il pisello Eh io ho agatto supporto Madonna Con la pistolina baby LOL Ma qui stiamo sui battlefield Quindi non è code Eh che cosa sta succedendo Oh E' chi sono La skin della femmina con i capelli corti e gli occhiali da solito Oh strano Non c'è più la loppi di mangio baguette come nello scorso video Ah Quello francese con la cosa blu Sì Ti ricordi E' chi sono scorda mi ha suicidato Guardalo guardalo qui No 5 Ma che mi si sta Probabilmente Ma che fa questo Vedi lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi Che cosa mi stai dicendo Ma è caduto un tipo dall'albero ed è morto Ero io E' una macchina da guerra questo pistrelo Ma buttati da un attimo No What the fuck Esci dal rovertatico ma buttati da un attimo A few moments later Ma Sono finito Ma no 17 punti Ok ragazzi allora Siamo in lobby abbiamo fatto le partite Spero che questa collab Che non portavamo da tanto tempo sul canale Vi sia piaciuta E' prima di chiudere Di concludere il video Entrambi vi dobbiamo dare delle notizie Allora Io non ci sarò per due mesi Un mese e mezzo Perché appunto vado al mare L'ho spiegato anche Nel mio video clickbait Di un po' di giorni fa Ecco L'ho spiegato E ho anche spiegato Sono andato a far parte di un team Se volete approfondire questa situazione Vi lascio la scheda in descrizione Oppure qui in alto a destra Ecco allora Stessa cosa vale per me Che è tutto quello che ha detto A parte Pure io sto cercando di entrare in questo team Anche se non so ancora se devo farlo Eppure io Insomma ci sarà una grande assenza sul mio canale Salvo per qualche video Che riuscirò a portare Ma saranno po' lì Però tutto questo Prima Non prima di una Più o meno settimanella Pochi video a settimana Però I giusti Per cui dare spazio All'assenza Detto questo Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao